questo è il gioco di quattro jack vedete io ho dei quattro jack uno, due, tre e quattro in mano io vi faccio vedere io e qui ho il mio massicarte meschiate chiude i miei quattro jack in questo modo li metto sul massimo lo rimetto per terra e guardate prendo una carta è un jack la seconda non è un jack la terza non è un jack e la quarta vi chiederete dove sono finiti i jack che stavano in mezzo beh se io faccio così i due jack sono qui ecco lo portiere di questo gioco semplicito prendete uno dei quattro jack e prendete due carte qualsiasi dal massimo io ho preso queste due vedete e le mettete dietro fate così lo prendete nella mano e mettete un jack dietro e gli altri due li mettete davanti in questo modo vedete fate vedere allo spettatore i quattro jack fate anche così per farvi vedere che sono veramente quattro tanto che se l'ultimo cade non mescolano carte chiudete mettete sopra il mazzo e in quel momento le due carte che avete messo dietro staranno in mezzo perciò alla fine per fare scena vedete un colpo sul mazzo e tirerete fuori i due jack che mancava grazie a tutti